Un concerto benefico per aiutare Gavorrano, questa è l'iniziativa che ha assunto Erminio Sinni e che servirà sicuramente anche alla collettività. Erminio è stato da un cuore grande come ha e è attaccato alla comunità di Gavorrano. È un piccolo inizio per lanciare il nostro progetto, cioè il progetto con Erminio in aiuto dei ragazzi con grave disabilità. Quindi questo è un punto di partenza e seguiranno sicuramente altri eventi per creare una sinergia anche con le varie istituzioni vicine. Insieme a Roberto Ticciati e Massimo Borghi abbiamo organizzato questa cosa, ringraziamo il sindaco, tutta la giunta e tutte le associazioni che ci hanno permesso di fare questa bellissima cosa. Sono felice perché ho visto veramente un grande cuore stasera e una partecipazione. Spero oltre all'incasso che abbiamo sensibilizzato un po' per il problema che c'è in questo momento nel comune. Che significa per te suonare al Teatro delle Rocce? È stato meraviglioso, penso che stavo con gli armoni, con le cuffiette e nonostante quello è arrivata una botta di energia enorme. Quindi si è sentito veramente un calore da brave persone. La cosa più bella che puoi ricevere è più dell'applauso e sentire che ci sono brave persone in giro.